Per raccogliere migliaia di firme, ogni firma va portata, è vidimata nel comune di residenza, deve controllare ogni firma. I tempi sono molto stretti, non so se ce la faremo, non per la quantità di firme, la quantità forse ce la faremo, ma per i tempi brevi per depositarle nei tribunali. Allora, qui si tratta di dire una cosa, di fare un atto di democrazia, non politico, di democrazia. Noi come movimento abbiamo il diritto perlomeno a partecipare alle elezioni, noi vogliamo partecipare, poiché non ci votate, o ci votate è un problema vostro, io non sono venuto a convincere. Forse siamo peggio degli altri, chi lo sa? Forse siamo i peggiori del mondo, chi lo sa? Ma però fino a oggi non è che sia andata meglio, noi adesso abbiamo un paese che è in bancarotta, si ripresentano gli stessi che l'hanno mandato in bancarotta. C'è di nuovo Berlusconi che mi fa anche tenerezza, mi fa tenerezza, ma perché non sembra un cofano di un maggiolino? Faccia, va in tutte le televisioni, zampetta da una televisione all'altra, non ha capito, la televisione ormai è in discesa, ogni pochino che va in televisione non prende voti, lui ci fa, fa quello che può. Per non sparire, vengo più avanti. Avanzare! Pifferai a macchina per sei! Eh ma non pifferai a macchina, per questo! E toccatemi, vedi tutto! Non ho gestato! Ma il dolore, eh? Me lo dici adesso che c'è un realismo? Ah, c'è un vaso! È fantastico il vaso! C'è... È meraviglioso! Sono dentro una p***a grassa, fantastica. Allora... Ma come ci siamo rete? Piero, ora, tienimi. Allora, l'incorso è questo. Siamo in una crisi che non è mai successa una roba così. Monti, non so cosa ha fatto, è come un impiegato di Bacca, si è messo in crisi da solo, perché non è andato dal Parlamento e non si sono sciolte le camere. Lui si è sfiduciato da solo, è la prima volta nella storia di questo paese che un presidente di consiglio va a casa sua, va dalla moglie e dice non ho più fiducia. E lui si è sfiduciato. Che cosa c'è? È il pulmine, lasciatelo passare, vedi? Ciao ragazzi! Ce li avete ancora i pulmini qua? Beh, allora... Allora, il discorso è così. Sì, noi stiamo tentando di portare avanti un discorso completamente diverso, di mettere in Parlamento delle persone normali. Normali! Ciao! Hai ragione, io non sono democratico. Hai ragione, Gioia, hai ragione. Sono i trombanti della destra e della sinistra. Ma no, ma voglio dire, noi facciamo paura, perché fanno paura questi ragazzi qua. Fanno paura questi ragazzi qua. Noi abbiamo fatto delle elezioni online, ma pensate, non c'è democrazia. Abbiamo, se andate a vedere, sono qui. Ecco la cosa che sto dicendo, che mai nella storia della Repubblica avete davanti delle persone calabresi, cioè della vostra circoscrizione, che andranno in Parlamento. Sono qua. Ve li presento tre mesi prima delle elezioni. Potete guardarli, interrogarli, dirgli delle cose, criticarli, fare quello che volete. Oppure non votarli. Questi sono loro. Eccoli qua. Vieni qua. Dov'è la... Vieni su, vieni su. Allora, il più stupido c'è una laurea. Il più stupido c'è una laurea. Quando mi dicono che non hanno esperienza, non hanno esperienza, io dico, qual è l'esperienza di un politico? Rubare, cos'è? Non hanno esperienza come truccare un bilancio, lo so che non hanno esperienza. Magari se la faranno come truccare un bilancio. Ma per adesso l'esperienza qual è di un politico? E' andare nel talk show. Andare nel talk show e fare dei discorsi in televisione. Perché se poi vai in Parlamento e vedi come si comporta un politico in Parlamento, non sanno neanche che cosa votano. Hanno uno strumento elettronico di sì o di no e votano in base alle direttive del partito. E vanno a modificare l'articolo 4 del coma 5 del paragolo 6 della legge del 97. Non sanno esattamente cosa fanno. Vanno in televisione. Basta. Allora io perché mi sono permesso nella mia immonda dittatura di dire no, non andate in televisione. Andateci. E' qua. Sei te che ti devi fare intervistare. Sei tu che ti devi fare intervistare. Sei tu la candidata in Parlamento. Vai. Usa la televisione. Usala. Sei tu che devi usare loro. Non il contrario. Ho detto solo non andate nel talk show. Non andate nel talk show perché sono trappole. Ma ora mi danno tutti ragioni. Il duttatore. L'ho fatto 20 anni la televisione. E' chiaro che se ci va una ragazza così o un ragazzo così in mezzo e mentre parla magari dice una cosa meravigliosa. e inquadrano Gasparri. Mentre tu parli inquadrano Gasparri. Puoi dire la teoria della realtività. Che dici delle cazzate. Allora mentre parli ti inquadrano il ginocchio. Ti inquadrano magari il piede. E magari se stai per dire una cosa intelligente ti interrompono. Oppure devi andare alla pubblicità. Sono loro la novità. Sono loro che fanno odiesi oggi. Non i vecchi politici. Allora vengono usati per essere criticati e massacrati in televisione. Allora andatela e usate. E' successa una cosa. Loro sono visibili. Non c'è un partito che vi dice loro sono visibili. Vengono nominati tutti. Noi abbiamo oggi mille parlamentari nominati da cinque segretari di partito. E io sarei quello antidemocratico. Ma pensa a te. Pensa a te. Io non sono candidato. Non mi sono mai neanche... E' finita la pausa pranzo. State due minuti fuori. Sono soldi pubblici. Io ve lo dico. Per il vostro bene. Va bene. Perfetto. Allora. No no frega anche a loro. Non è che non le frega niente. Qua siamo in crisi tutti. Loro, noi. Vedrai quando cominceranno a togliere la tredicesima, gli stipendi. Allora poi scoprirà la rivoluzione. Perché ci stiamo arrivando. Perché non fa questa cosa? E allora. Discorsi. Allora. Noi abbiamo fatto questo. Abbiamo fatto le votazioni. Sono usciti loro. Loro. Che si sono autocandidati, auto-organizzati. Allora abbiamo fatto questo online. Benissimo. Paolo. A costo zero. A costo zero. Non abbiamo chiesto un euro, due euro a nessuno. Costo zero. Tutto volontariato. I banchetti volontariato. Siamo l'unico movimento che abbiamo già firmato. che se entriamo in Parlamento, siamo l'unico, abbiamo già firmato. E se entriamo con questa percentuale che ci dicono il 20%, avremo diritto, state bene a sentire lì alla Prefettura, come legge di rimborsi elettorali, avremo diritto con la percentuale che ci danno loro a 105 milioni di euro che noi abbiamo già firmato che non prenderemo. Voglio vedere, voglio vedere, voglio vedere, no, siamo coglioni, sono bravo, coglioni, dici che sono un coglione, siamo coglioni, però voglio vedere quale partito ci seguirà su queste cose. Noi vogliamo che ci seguano su queste cose. Sono andato da Reggio Calabria a Messina, da Reggio Calabria a Messina a nuoto. Sono partito da una fogna di Reggio, ho nuotato, ci ho messo 30 minuti meno del traghetto, sono arrivato a Messina e sono affrontato in un'altra fogna. Cazzo! Allora, non ci credeva nessuno della Sicilia, la mafia, la contromafia, l'andrangheta, non ti faranno neanche parlare. Non ci credeva nessuno. E in Sicilia abbiamo portato lì un movimento di ragazzi come questo, di giovani che è il più scemo, c'è una laurea con un master negli Stati Uniti, il più scemo. Va bene? Allora, sono entrati, siamo diventati la prima forza politica della Sicilia, la prima. Abbiamo messo dentro 15 persone al Consiglio regionale. Bene, sapete quanto prende un consigliere regionale in Sicilia? 20 milioni di euro al mese. 20 mila euro al mese. 20 milioni mi sembrava un po' esagerato. Ci arriveranno, eh? 20 mila euro al mese. Bene, avevano detto in campagna elettorale che si sarebbero diminuiti lo stipendio a 2005, l'hanno fatto, stanno restituendo la differenza di 17 mila euro alla regione. Il vice presidente dell'assemblea regionale prende lo stipendio a 2005, gli hanno offerto 3.200 per rimborso a spese forfettario, ha detto di no perché non sono soldi suoi, gli hanno messo l'auto blu, ha detto di no perché c'è la sua macchina. Loro fanno esattamente quello che hanno detto prima. Noi vogliamo persone così. Poi non abbiamo esperienza. Io voglio vedere in Parlamento una madre di famiglia con tre figli. E poi mi dici che non hanno esperienza. Non ha esperienza una mamma di tre figli che tira su tre figli, li manda a scuola, li dà da mangiare e non fa fallire la sua famiglia. Mentre i partiti politici stanno facendo fallire il paese. Non voglio una persona così. La voglio come presidenza della Repubblica. Nelle liste ci sono pensionati, disoccupati, operai, ingegneri, astrofisici, il più scemo è ingegnere e informatico. Allora, c'è tutto, le persone che incontri per la strada. Io voglio questo tipo di rappresentanza. E il movimento è questo, mettere delle persone come voi, dei cittadini dentro, con voi fuori che gli date una mano però. E fuori dall'euro. No, no, aspetta, voi gli dovete dare una mano. Perché non state lì come lui che mi guarda. Anche lui mi guarda col cappello. Mi guarda. Perché tutti questi signori che stanno lì, per lo so, perché lo vogliamo noi. Eh, lo so. Stavo dicendoti, stavo dicendoti, allora, dato che, è giusto, quello che pensano gli italiani. Esattamente. Allora, gli italiani sono così, stanno a guardare quelli che li massacrano, va bene? E allora non è il momento di dire, cari signori, è colpa nostra. C'è, ha ragione. È colpa nostra. Allora, vogliamo rimanere così? Tanto è colpa nostra. Tanto se vanno su dei cittadini è lo stesso? Tanto è lo stesso. Io non voto, non mi occupo di politica, tanto siete tutti uguali, è questo che diciamo. Allora, se tu non ti occupi di politica, la politica si occupa di te. Ed ecco perché siamo in queste condizioni. Ma lui, sembra che lui mi contesti, ma sta dicendo... No, ma non contesta, sta dicendo le cose che dico io. No, è certo, vedi, sta gridando, ma gridando a favore. Ehi, ma stai attento, c'è Sky, c'è il TG3, di prendere il contestato grillo. Invece sta gridando le cose che dico io. È un fan, ma il contestato grillo. Stai attento, c'è la televisione. Stai attento, eccolo, eccolo. Cos'è quello, cos'è? Cosa? Che cos'è? Infospazio. Eh? Infospazio non la conosco, puoi stare, tu. Calabria, libera, su web, puoi stare, tu. Niente, dai, manco l'Italia. Allora, allora, qua siamo...